L'incoerenza dei cristiani dà scandalo e allontana il popolo di Dio dal Signore, come gli imprenditori che vanno a messa ogni domenica ma non pagano il giusto i dipendenti, o i pastori attaccati ai soldi, gli arrampicatori e quelli che comandano tutti e non servono il popolo. Papa Francesco lo ha sottolineato con forza nell'omelia della messa del mattino a casa Santa Marta, prendendo spunto dal Vangelo di Luca nel quale Gesù ammonisce i discepoli a non scandalizzare i piccoli. State attenti a voi stessi, insiste Gesù, perché lo scandalo uccide speranze, illusioni, famiglie e cuori. È lo scandalo del cristiano che si dice tale ma vive come un pagano, che lecca le candele in chiesa e poi esce e sparla degli altri. Quanti cristiani col suo esempio allontanano la gente, con la sua incoerenza, con la propria incoerenza. L'incoerenza dei cristiani è una delle armi più facili che ha il diavolo per indebolire il popolo di Dio e per allontanare il popolo di Dio dal Signore. Dire una cosa e fare un'altra. Dire una cosa e fare un'altra.